Per il diciannovesimo anno consecutivo si ripete a Brindisi il rito solenne della benedizione ecumenica delle acque del porto. L'iniziativa, promossa dalla comunità ellenica di Brindisi, vede fianco a fianco cattolici e ortodossi. Un segno tangibile di dialogo e comprensione tra due religioni distinte che sono in grado di convivere pacificamente. Non a caso proprio a Brindisi assiede la più rappresentativa comunità ellenica in Italia. La città adriatica tra l'altro non è vicina solo geograficamente alla Grecia ma lo è anche culturalmente a causa del lungo periodo della dominazione bizantina e anche per la vocazione commerciale e dischietta accoglienza che caratterizza questa terra da sempre crocevia di traffici ed incontri tra culture differenti. Ed è in questo contesto che si inserisce la solenne benedizione ecumenica delle acque, un rito che si ripete ogni anno avviato dalla celebrazione della Santa Messa. Poi il corteo di fedeli ortodossi e cattolici che si è diretto verso il porto in processione. Infine padre Arsenio, parroco della chiesa ortodossa di San Nicola, che ha impartito la solenne benedizione con la triplice immersione nelle acque del porto interno di una croce poi recuperata da un sub. Un rito suggestivo al quale ogni anno prendono parte le principali autorità civili e religiose delle due sponde dell'Adriatico e che consente di cementare sempre più il rapporto tra la comunità di Brindisi e quella ellenica.